Dopo giorni di polemiche e attacchi sulla stampa locale all'indirizzo di chi doveva preservare la tradizione e non lo ha fatto, il rito del fuoco legato a Sant'Antonio Bate è stato rinnovato, anche se con 18 giorni di ritardo. Rito che, nonostante tutto, ha fatto sì che quello che rappresenta uno dei simboli della Campobasso di un tempo chiusa dalle sei porte è rimasto inalterato, anzi si è ingigantito sotto moltissimi punti di vista, tanto da ravvivare la giornata, non solo con l'accensione dei ceppi, che rimarranno così fino a domani domenica, ma anche con le altre manifestazioni che la caratterizzano, come le maitunate e la cottura di cavatelli e fave e salsiccia, che richiamano ancora una volta raccolta la comunità cittadina. Comunità legata al santo eremita che rubò il fuoco all'inferno per regalarlo agli uomini, ricorrenza che affonda le radici nel lontano 1600, anche se gli studiosi e soprattutto i cultori della storia locale sono sicuri che è molto più antica. Celebrazione tra il sacro e il profano che vuole essere un tributo a quello che è la tradizione che invita a scaldarsi intorno al fuoco, che proprio perché tale non si spegne, ma rimane acceso dentro, a dimostrazione che la campobassanità, che onora il santo eremita, è radicata nel popolo, cosa che riporta alla mente gestualità che sono quasi del tutto scomparse, perché l'incongruenza dell'attuale non permette assolutamente di apprezzarne la valenza e di conseguenza il significato, che si rinnova con la speranza che le fiamme purificatrici facciano svanire le contrarietà che sono uno dei lati delle teri della società odierna.